Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale L'incendio al pesce azzurro del 2010 ora spunta anche un piano per uccidere un ex socio in affari di alcuni degli indagati dalla procura Sul San Bartolo scoperto un allevamento abusivo di suini, gli animali erano tutti privi di controlli sanitari Per i residenti nel comune di Fanno dal 1 aprile sarà obbligatorio il bollino verde per gli impianti termici, per i trasgressori multe salatissime Tanta pioggia in arrivo nelle Marche e allerta per possibili esondazioni lungo la costa Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fanno TV Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia che questa sera si apre con l'incendio L'incendio che nel 2010 devastò il self service pesce azzurro Una notizia, un episodio che provocò tanto, tantissimo scalpore quell'anno Adesso invece spunta un piano, un piano per uccidere, uccidere un ex socio in affari di alcuni degli indagati in questa brutta storia Il servizio e la ricostruzione è di Simona Zonghetti Nuovo colpo di scena nell'udienza per l'incendio del ristorante self service pesce azzurro di Fanno In questa vicenda intricata che abbiamo seguito fin dai primi istanti Ora spunta il piano diabolico di un omicidio Erano pronte a tutto le sei persone indagate per il rogo Che non solo avevano l'obiettivo di mandare in fumo la concorrenza Ma volevano far fuori un pesarese ex socio in altri affari Queste fiamme rimangono ancora oggi negli occhi e nei ricordi dei titolari, dei dipendenti E delle migliaia di persone affezionate al noto locale della marineria fanese Il rogo divampato a luna di notte del 15 giugno 2010 Ha provocato danni ingenti alla comarpesca per almeno 500.000 euro A questi poi vanno aggiunti mancati guadagni Visto che il self service registra in media mille clienti al giorno E i conti sono presso fatti Le lunghe e complesse indagini condotte dai carabinieri di Fanno E dal nucleo investigativo di Pesaro Avevano permesso di raccogliere indizi inconfutabili Grazie alle testimonianze e ai tabulati telefonici Che provavano i vari spostamenti della banda Sono stati iscritti nel registro degli indagati L'imprenditore fanese Giovanni Piccoli E altre 5 persone Tra cui i due proprietari di un locale concorrente E due grossi esponenti di spicco della criminalità pugliese Già pluri pregiudicati Uno di loro avrebbe pianificato allo stesso tempo Di far fuori un ex socio Oggi testimone nel processo Considerato da lui colpevole di essersi intascato soldi Di un'attività che avevano in comune Portandola di conseguenza alla chiusura Per questo inganno lo voleva vedere morto Dall'ultima udienza Venuta davanti al giudice Paolo De Luca E ai PM Maria Letizia Fucci E Valeria Cigliola E' emerso che gli esecutori materiali Erano arrivati sul retro del ristorante A bordo di un'auto presa da un carrozziere Per eludere i sospetti Le telecamere però avevano immortalato due figure Scavalcare la recinzione per entrare nell'aria Si tratta delle persone che avrebbero piccato il fuoco Usando due taniche piene di benzina Una di queste, da 5 litri e unica nel suo genere Perché acquistata all'estero Apparteneva al pesarese che volevano mettere nei guai Per incastrarlo infatti Dopo aver dato le fiamme al ristorante Gli autori degli incendio avrebbero lasciato appositamente E bene in evidenza Il contenitore di carburante Per portare gli inquirenti sulle tracce dell'ex socio Tant'è che è stato lui stesso a riconoscerla Durante un interrogatorio da parte dei carabinieri Quella tanica invece E' stata la prova che ha incastrato gli attentatori Nel Parco Naturale del Monte San Bartolo E' stato scoperto un allevamento abusivo di suini Gli animali allevati non erano né registrati Né sottoposti ai controlli sanitari Venivano allevati in modo abusivo All'interno di un recinto fattiscente Senza copertura e pieno di fango Liquami ed escrementi Era qui che vivevano 73 suini Scoperti dal corpo forestale di Pesaro E dal servizio veterinario dell'Asur Il personale intervenuto a Colombarone Nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo Ha scoperto che questi animali Si trovavano in condizioni di forte criticità E che non erano stati registrati Né tantomeno sottoposti ai controlli sanitari Oltre a questo Sono stati riscontrati diversi leciti penali Come per il deposito incontrollato di rifiuti speciali E l'abbandono di liquami zootecnici Si ipotizza inoltre Il reato di maltrattamento di animali Per verificare la compatibilità Dell'allevamento con le norme igienico-sanitarie E di benessere dei suini Il Dipartimento di Provenzione e Servizi Veterinari di Fano Ha chiesto al Sindaco competente L'emissione di un'ordinanza di sequestro Sull'argomento Il Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Maurizio Cattoi Ha dichiarato che l'operazione è stata portata a termine Anche per garantire la sicurezza alimentare A tutela sia dei consumatori Che dei tanti allevatori Che operano correttamente Nel rispetto della legge Pioggia in arrivo nelle Marche Con possibilità di criticità idrogeologica In particolare lungo la costa Lo indica un avviso di condizioni meteavverse Di criticità idrogeologica Diramato dalla Protezione Civile Regionale Valido per tutta la giornata di domani Venerdì Previste precipitazioni diffuse Anche a carattere di ovescio Su tutto il territorio Con picchi intorno ai 40-50 mm di pioggia Nel settore meridionale E intorno ai 30 mm su quello settentrionale A causa dello stato del suolo Del terreno Già bagnato dalle precedenti piogge Sono possibili dunque smottamenti Principalmente lungo le strade E i versanti ripidi E allagamenti E un innalzamento significativo Del livello dei fiumi e dei torrenti Con possibilità di esondazioni Localizzate in particolare lungo la fascia costiera Dove il livello di criticità idrogeologica E idraulica sarà moderato Mentre ordinario nell'entroterra Dal primo di aprile I cittadini residenti nel comune di Fano Dovranno far controllare il proprio impianto termico I trasgressori rischiano fino a 3.000 euro di multa Sono 30.000 gli impianti termici Nel territorio comunale di Fano Che dovranno essere adeguati alle nuove normative Si tratta di un servizio Promosso dall'assessorato all'ecologia urbana E dall'Aset Holding Che prenderà avvio ad aprile A seguito dell'approvazione di una legge regionale Queste norme obbligano tutti i possessori Di un impianto termico E quindi i privati Gli amministratori di condominio E i titolari di aziende o di esercizi commerciali A far eseguire dei controlli di efficienza energetica I cittadini entro il 30 di giugno del 2017 Dovranno autocertificare l'efficienza energetica Della propria caldaia Del proprio impianto termico E lo faranno attraverso il proprio manutentore di fiducia Il quale farà il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto E attesterà questa autocertificazione Apponendo un segno identificativo sul rapporto E trasmettendolo ad Aset Holding A questo punto il cittadino potrà ricevere un bollettino verde Al prezzo di 14 euro Ma allo stesso tempo dovrà sostenere anche il costo del manutentore Ed eventuali interventi effettuati alla caldaia D'altra parte invece Aset Holding effettuerà un censimento E inizieranno le ispezioni per individuare i trasgressori Che rischieranno una multa dai 500 ai 3.000 euro Oltre alla sanzione Chi sarà in adempiente Dovrà accollarsi anche la spesa di 80 euro Per l'ispezione eseguita Il controllo energetico degli impianti Porta al cittadino un risparmio Legato alla materia prima Quindi al gas E poi appunto anche Il controllo degli agenti atmosferici Quindi degli inquinanti dell'aria In più controllando gli impianti termici C'è un controllo indiretto anche sulla sicurezza degli stessi E quindi un controllo Come dire Della sicurezza dei diversi condomini Dei diversi appartamenti Per avere ulteriori informazioni È possibile visitare il sito asetholding.it Nella sezione dedicata agli impianti termici Oppure si può contattare l'azienda Tramite mail o al numero 0721818111 Siamo tra i primi comuni delle Marche Che riescono a mettere in campo Un percorso importante Che coinvolgerà tutta la città Tutte le cittadine e tutti i cittadini Per garantire non solo la sicurezza degli impianti termici Ma anche risparmio energetico E quindi anche una ricaduta positiva Per l'ambiente della nostra città Farà tappa a Pesaro Il tour 2016 del treno verde Lo storico convoglio di lega ambiente Del gruppo Ferrovie dello Stato italiano Che ha ripreso il suo viaggio lungo la penisola Per monitorare la qualità dell'aria E l'inquinamento acustico Il convoglio ambientalista arriverà lunedì 14 marzo Alla stazione di Pesaro Dove resterà in sosta al binario 1 Fino a mercoledì 16 marzo La mostra itinerante sarà aperta tutti i giorni Dalle 8.30 alle 14 Per le classi prenotate E dalle 16 alle 19 per il pubblico L'ingresso è gratuito Nel quartiere fieristico di Campanara Si sono riuniti gli agricoltori E le associazioni di categoria Per parlare di politiche comunitarie E del piano di sviluppo previsto Dalla Regione Marche Servizio di Lino Balestra La riforma della politica agricola Della comunità europea Che riguarda il periodo 2014-2020 Porterà molteplici innovazioni A tutte le componenti del sostegno agricolo I pagamenti diretti Le misure di mercato E la politica di sviluppo rurale Appunto lo sviluppo rurale Diventato con Agenda 2000 Il secondo pilastro della PAC Ha assunto un'importanza sempre maggiore Nelle ultime riforme Le novità sono tali e tante Che è necessario aggiornare tutti i dati Della propria azienda E soltanto a verifica completata Con una consulenza specialistica Fornita dagli uffici Avviare il procedimento burocratico E' questo il motivo conduttore Dei tanti incontri Sulla PAC e sul PSR Di questo si è parlato appunto Nel convegno organizzato da CIA Copagri e Confagricoltura Nel corso di Agrimarche La fiera dell'agricoltura Per tecnici e appassionati Che si è tenuta a Pesaro Nel quartiere fieristico di Campanara Due punti molto importanti Per quelle che sono le aziende agricole La PAC La nuova PAC Che ha cambiato E stravolto Quella che era la PAC Di una volta E sul PSR PSR che sono Tutti quegli investimenti Per le aziende agricole Per poter migliorare Le aziende Quindi portare aggiornamenti Portare innovazione In quello che è L'azienda agricola del futuro Nel PSR Cosa molto importante L'insediamento giovani L'insediamento giovani Vuol dire Un ricambio generazionale Delle aziende Il PSR Delle Marche Sempre molto attenta Al mondo agricolo Finanzierà azioni Nell'ambito di tutte e sei Le priorità Dello sviluppo rurale Con particolare attenzione Alla conservazione Ripristino e valorizzazione Degli ecosistemi Connessi all'agricoltura E alla silvicoltura Nonché al potenziamento Della competitività Del settore agricolo E forestale E promuovere L'inclusione sociale E lo sviluppo economico Nelle zone rurali Ma il settore agricolo Che per tanti È immaginato Come un settore Di tradizione Esclusivamente In realtà È un settore Di grandissima innovazione E gli strumenti Che sono a disposizione Sono quelli in discussione Al convegno di oggi In particolare La regione gestisce Il PSR Che ricordo sempre È il principale Fondo europeo Che distribuiamo Circa Anzi Oltre la metà Dei fondi europei Sono dedicati Alla agricoltura Al PSR Diciamo che alcuni passi In avanti Nelle regioni Sono stati fatti Questo va detto Una semplificazione In alcune misure Avvenuta È molto poco Cioè noi abbiamo bisogno Che la semplificazione Sia Solo ed esclusivamente Quella che l'Europa Ci chiede Non dobbiamo aggiungere Null'altro Quella che l'Europa Ci chiede Quella dobbiamo applicarla Prosegue la rassegna Cianfrusaglia Questa volta Tocca ai Comediant Vediamo Il dialetto È sempre vivo Nella città di Fano E lo dimostra Il fatto Che le prime due compagnie Che si sono esibite Al Politeama Hanno aggiunto Una data Non programmata Per soddisfare Le tante richieste Di biglietti Arrivate dal pubblico Ora Archiviata con successo Anche la commedia Del gaff La rassegna Cianfrusaglia Continua con lo spettacolo Dei Comediant Che presenteranno Il 14, 15 e 16 marzo Per riventanza La Grazia Il loro ultimo lavoro In due atti Diretto da Marco Lucertini Con l'aiuto regia Di Serena Romiti Dopo tre mesi di prove Gli attori sono pronti A calcare di nuovo Il palcoscenico Con uno spettacolo Frizzante Originale E divertente Una famiglia Normale Un commercialista Che una mattina Come tante altre Si veste Per andare al lavoro Per andare in ufficio Ma non riesce a fare Il nodo alla gravata Il gesto più semplice Più normale Di un commercialista Quello di farsi la gravata Diventerà così Un problema enorme Sta famiglia Insomma Sembrava proprio Tanza la Grazia Invece Qualcosa di particolare Di strano c'era Fino ad arrivare al punto Che si scopriranno Malviventi in casa Sparatorie Delle cose Molto Molto Esileranti Vai Tutto Pronti Pronti Allora un po' Cosa Prima però Devo dirvi anche Che aspetto un bambino Eh no C'è la miseria Adesso Tocca La compagnia Che ospita Al suo interno Attori dai 10 ai 70 anni Di età Vanta una storia Di 14 anni Di successi Tra cui La vittoria Al festival Di Varano Con La stecca Vien d'allegna Di Paola Maggi Che ha vinto Poi Il premio Come miglioratrice Per vedere invece L'ultimo spettacolo Dei Comedianta Che andrà in scena Da lunedì Sarà possibile Acquistare i biglietti In prevendita Al Politeama di Fano Al costo di 12 euro A partire da venerdì 11 marzo Dalle ore 17 Alle ore 19 Non vi resta altro Che venirci a vedere Va venga Va venga Ven capito Occhio chi gli scherze Ven capito Oh Se mi incas ben bene E' so bel per niente E' so bel per niente E' so bel per niente Se mi incas ben bene Ma guarda che si va in nata Quasi tranquilla Lo fate E' debutta questa sera Invece al teatro Della fortuna di Fano Il barbiere di Siviglia L'opera più famosa E longeva di Giochino Rossini Che quest'anno Fasteggia il suo Duecentesimo anniversario L'opera verrà riproposta Sabato 12 marzo Alle 20 e 30 Il presidente Della provincia Di Piesa Urbino Daniele Tagliolini Ha ricevuto questa mattina Il giovane campione Di moto Di supercross Francesco Muratori 23 anni Di Monbaroccio Che nel 2015 Si è classificato primo Al campionato italiano E ha conquistato Altri due titoli europei Muratori Accompagnato dal presidente Della Proloco di Monbaroccio Damiano Bartocetti Ha spiegato che il suo obiettivo È quello di mantenere Il titolo di campione italiano E di arrivare Nella top 5 Del campionato francese SX Tour È tutto Il telegiornale finisce qui Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona sera Arrivederci